Lidia e Nadia, chi sono queste Lidia e Nadia? Siamo noi! Ciao a tutti! Lei è Lidia? E lei è Nadia? Bene, oggi faremo un po' di... Sì, una sfida di ginnastica. Dovremmo sfidarci. Pronto Nadia? Sì. Mi sfiate voi? Che mi sfiate, scusa? Sì. Poi il prossimo video che uscirà sarà una sfida, la seconda parte di sfida con Marti. Sì, scompiamo Marti, promesso. Ehi, cammino come Marti, perché stiamo facendo la sfida? No, è una sfida di equilibrio. Aspetta, scompiamoci un po'. Eccoci. Nadia, com'è la posizione passè? Brava, dovremo stare in passè. Vedremo un po' chi riescirà a starci per più tempo. Regola, guardare un punto fisso. Sì. Ok, pronta? 3, 2, 1, so. Ha tutto mosso, era così. Ecco, guarda Nadia, devi stare ferma con la gamba. Prima sfida vinta io. Ci saranno tre sfide comunque. Mancano due. 1, 0 per Lidia. Allora, non ti accadevo. No. La seconda è una sfida di ruote. Ora vi spiego come. Prima dovremo fare la ruota in uno spazio grande. Poi lo rimpiccioliremo un pochino. E poi ancora di più. Dobbiamo stare dentro quello spazio per fare la ruota. Pronta Nadia? Bene. Tu sei vantaggiata perché sei piccolina, le gambe piccole. Io invece ce le ho lunghe. Perico livello. Facile e facile, semplice e semplicemente. C'è solo dentro il tappetino. Sì. Pronto Nadia? Anche tu. Inizia dal tappetino. Dentro devi stare. Dentro il tappetino. Ok. Vai. Ok, ce l'hai fatta anche tu. Secondo round. Un pochino più difficile. Giusto un po'. Guardate il tappeto. Sì. L'abbiamo piegato. Devo stare dentro. Aspetta. È troppo. Questo lo facciamo che è l'ultimo livello. Ok. Ecco. Un po' più piccolo. Inizio? Sì. Ce l'ho fatta! Secondo livello anche per Nadia ovviamente. Vai. Ok. No, dentro il tappetino eh. Vai. No, si è uscita un po'. Dai, facciamo vita che non è successo dato che è poco. Ora terzo livello. Lo facciamo ancora più. Bene ragazzi, abbiamo fatto tutto. Ultimo livello. Sì. Prescamente il tappetino è piegato a metà. Dove dobbiamo fare la roba? Ho paura anche di non riuscire. Vabbè provare. Tu sei avvantaggiata, hai le gambe di coppa. Se lo faccio nel lato. Non puoi. Sì che posso. Ce l'ho fatta! Non fa staccare. No, sei uscita un po' fuori. Ora tocca a me. Anche tu sei uscita un po' fuori prima. Aspetta. Marta vuoi anche tu giocare con noi? No. Ma io sto bene qua a mangiarmi le crocchette. No, 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 aspetta. Io sto bene a grattare tutto. Sì. Anzi io sto bene a vederli cadere. Sì, vai Nadia. No, deve essere bene la ruota di falla. Ok, no. Fatta bene con le gambe. Hai perso. No, non l'ho perso. Ok, scendiamoci. Ultima sfida. Sì. Indovina, Nadia. Vertical. No. Perché tu non lo sai fare. Ponti. Esatto. Gara di resistenza dei ponti. Chi riuscirà a stare per più tempo in ponte? Chi lo sa. Iniziamo. E' il risparmio del scaldamento. L'hanno già fatto? No. L'hanno già fatto. 3, 2, 1. Aspettiamo. Vediamo un po' chi riuscirà a stare per più tempo in ponte. Io sento il rumore. Tu? No. Lo sento. Ah, la pancia. Allora scendi. No. Non voglio perdere. Ah, con una mano. Con una mano. Che cazzo. Gamba su. No, buon sol sacco. Adesso. E ho vinto. Bene. Una sfida finalmente l'ha vinta anche Nadia. Però io ho due. Nadia ho una. Tu vinci. Allora io ho vinto. La settimana di oggi si può concludere qui. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!